In collegamento telefonico con il meteorologo Giuseppe Stabile di Meteo7.it. Giuseppe, prima di entrare nel dettaglio delle previsioni meteo che caratterizzeranno in questo fine settimana, che cosa puoi dirci sulla situazione attuale del tempo? Sulla nostra regione insiste un campo di alta pressione di natura africana che determina condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e con temperature ben al di sopra della media del periodo. Alle elevate temperature inoltre si accompagna un altrettanto elevato tasso di umidità con conseguenti condizioni di caldo afoso, una situazione che resterà invariata anche nel corso di questo fine settimana. Che tempo è previsto per questo primo weekend che apre il mese di luglio? Sabato 6 e domenica 7 luglio saranno due giornate pressoché identiche, con condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, a parte la formazione di qualche nube innocua nelle aree montuose nel corso del pomeriggio. Temperature in lieve aumento nella giornata di domenica. aumento di temperatura che sarà accompagnato da elevati tassi di umidità, venti deboli di direzione variabile con una maggiore componente occidentale durante le ore diurne, mare calmo o quasi calmo. E per la prossima settimana come si presenta la situazione meteorologica? Tra lunedì e martedì la configurazione barica sul comparto europeo inizierà a mutare grazie all'affondo di una depressione in direzione della nostra penisola. Depressione che in una prima fase favorirà un ulteriore richiamo di correnti calde sulla nostra regione, per cui nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 raggiungeremo l'apice della calura. Da mercoledì la depressione tenderà ad inglobare l'intera penisola, determinando condizioni di tempo instabile e soprattutto una sensibile diminuzione delle temperature. Il contrasto tra l'aria molto calda preesistente e quella fresca in arrivo potrebbe determinare fenomeni che localmente assumeranno carattere di forte intensità. La fase di caldo intenso dunque sarebbe destinata a terminare entro mercoledì 10 luglio con il ritorno a temperature più consene al periodo in corso. Ma per maggiori dettagli invito come sempre i telespettatori a consultare il sito www.meteosette.it